Una delle tante cose che purtroppo ci stanno privando in questo periodo è senz'altro la discoteca. Quanto ci manca la discoteca? Samu che si fa? Si va in discoteca? No, non vengo. Sono già a letto. Dai, ci sono anche due mie amiche. Arrivavi, c'era una fila lunga, una vita. Quando da ragazzino la mia mamma le prime volte mi portava in discoteca mi diceva Alle trenti vengo a prendere, ti chiamo Eshi. Arrivavo a mezzanotte, facevo due ore e mezza di fila. Quando arrivavo dentro, sono fuori Eshi. In discoteca ci vai soprattutto per conoscere le ragazze. Io l'unica volta che una ragazza mi ha chiesto di uscire in discoteca è perché ero entrato nel bagno delle donne. Dopo ore e ore che ci provi con le ragazze arriva Lu. E' il ragazzo perfetto, capelli ordinati, sempre precisi, tutto vestito di marca. Anche le mutande sono di marca. Io invece ho delle mutande che mi ha comprato la mia mamma dai cinensi. Invece che Calvin Klein ci ha scritto Klein, 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 Klein. Lui ha tutto fico, anche il profumo. Di Jonathan è buonissimo, ma che profumo è? Dolce in Gabbana, light blue. Poi vengono da te. Samuere, ma che profumo usi? Autan numero 5. Dopo che hai spesso 25 euro di ingresso, 60 euro di bevuti, non sei andato con nessuna ragazza. Esci dalla discoteca e il butta fuori ti fa. Ciao ragazzi, mi raccomando, ci vediamo il prossimo sabato. Ma vattene a pianta il culo. E quando ce l'ho, ce l'ho. Quando sono in discoteca mi sembra di avere il portafoglio di Flavio Briatore. Offro a tutti. Ragazzi, offro tutto io. Champagne, bibi di tavoli. Poi quando la mattina faccio colazione al bar. Scusiamo, ci avresti i miei 20 centesimi per arrivare a un euro. Poi quando la mattina faccio colazione al bar.